Non ci saranno i voti di Fratelli d'Italia sulla manovra economica del Governo. In questa manovra non c'è niente per le imprese, non ci sono provvedimenti per le infrastrutture, non ci sono investimenti, non c'è niente che possa aiutare la crescita. Le imprese, anche grazie a provvedimenti come la fatturazione elettronica, chiuderanno e si produrranno nuovi disoccupati. E non c'è niente, neanche delle promesse roboanti che erano state fatte dal Governo, a partire proprio dal reddito di cittadinanza, che oggi ammonta più o meno a 133 euro al mese e non ai 780 che erano stati promessi.